Buonasera a tutti, sapete chi sono, Raffaele Sestu, perché sono qui? Perché vengo da Arsana, guardate, questo è il mio dolce paesello, io sono innamorato del mio paese naturalmente, come credo gran parte dei sardi. Arsana è particolare, perché Arsana è il cuore della zona blu dell'Ogliastra, che è l'unica zona blu della Sardegna, ma è una delle cinque zone blu del mondo. Le cinque zone blu del mondo sono Kinawa, l'isoletta greca di Karios, una parte del Nicaragua, una parte della California del Sud e l'Ogliastra. Si chiamano zone blu perché? Perché un gruppo di ricercatori, tra i quali uno importantissimo sardo, che è il professor Gianni Pesse, assieme a National Geographic hanno girato il mondo cercando di studiare, di scoprire le zone dove c'erano più centenari. Lo facevano con una cartina e con una penna biro, blu. Quando sono arrivati in Ogliastra, a forza di cerchiare di blu i paesi dove c'erano centenari, hanno coperto la cartina e da allora le hanno chiamate zone blu. Queste sono le cinque zone blu del mondo. Arsana, dagli ultimi studi che sono apparsi non più di un mese, due mesi fa, è probabilmente il paese, probabilmente perché questi studi sono in evoluzione, però probabilmente è il paese che ha l'indice di longevità più alto del mondo, cioè noi competiamo con Okinawa. E allora abbiamo ricevuto l'attenzione di tantissimi ricercatori, di tantissimi mesi di comunicazione e questo forse spiega perché io sono qui stasera. Se mi chiedete perché nelle zone blu si arriva a cento anni, vi dirò che non è facile dirlo. Sicuramente c'è una grossa componente genetica e di questo poi cercherò di parlare in questo quarto d'ora, però è altrettanto importante il fatto che si arrivi ai cento anni perché si vive in un ambiente pulito, si mangiano dei cibi sani e si vive in un ambiente familiare sereno dove ancora gli anziani, anche a cento anni, hanno un ruolo importante nella famiglia. Ancora da noi, prima che una famiglia prenda una decisione importante, convoca i suoi anziani. Se c'è il centenario chiede per ultimo il parere al centenario e questo chiaramente motiva gli anziani a vivere ancora più a lungo, ancora meglio nella propria famiglia. L'ambiente. L'ambiente, allora, Arsana, sapete, possiede la gran parte del Genargento. Noi siamo nel cuore della Sardegna, la vetta del Genargento, sapete, punta alla marmora, è territorio demaniale arsanese. E gran parte del Genargento est, ma parte anche di quello ovest addirittura, è territorio demaniale arsanese. Questa è una vista del Genargento, vista da Nuoro, ve lo fate vedere da un altro versante. Questo è il Genargento visto da Arsana, visto dalla zona arsanese. Tenete presente che Arsana ha sul Genargento qualcosa come 17 mila ettari di territorio e che il territorio demaniale arsanese arriva fino a 5-10 chilometri da desolo addirittura. E questo è dovuto ad una cosa particolare, sapete. Intorno al 1300 d.C., per un motivo che ancora non è chiaro, alcuni dicono la peste, per me e per altri che la pensano come me, è dovuto più all'esaurimento delle riserve alimentari, gli abitanti di un villaggio nuragico che stava sul Genargento, che si chiamava Ruinas, ed era un villaggio nuragico importante, sapete, 300 capanne nuragiche, erano più di mille persone che sono vissute lì dalla notte dei tempi fino al 1300 d.C., hanno deciso di migrare, perché probabilmente non avevano più niente da mangiare, una volta che hai tagliato tutti gli alberi per riscaldarti, hai ammazzato tutti i murfoni che passavano, lì poi c'era anche poco altro da fare. Questa è la reggia nuragica di Ruinas, che è stata recentemente restaurata. Il villaggio nuragico è a 1200 metri di altitudine e quindi immaginatevi cosa voleva dire passare l'inverno sotto a zero a quell'altitudine. Questi abitanti sono arrivati ad Arsana, in parte almeno, e Arsana ha acquisito i territori del Genargento. Però oltre ad averci lasciato questi immensi territori sul Genargento, che erano fonte di pascole, quindi di economia per il paese, hanno fatto un'altra cosa importantissima, ci hanno trasmesso i geni della longevità. E allora vi ho portato l'esempio di quello che sono le grandi cose del Genargento. Sul Genargento tutto vive tantissimo. Ecco, questo albero che vedete è un albero di Ginepro. Questo albero di Ginepro ha più di 2000 anni. Questo vi dice che cosa c'è ancora sul Genargento, di tesori dal punto di vista botanico e naturalistico. Le querce si sono trasferite ad Arsana, questi sono i miei simpatici pazienti, che tutte le sere fanno parte del Senato arsanese, si riuniscono in una piazza e discutono, dicono un sacco di frottole, però stanno lì ancora. Ecco, immaginate che questa panchina praticamente ha quasi 300 anni. Non la panchina, gli abitanti. E vi faccio vedere alcuni dei nostri grandi vecchi. Allora, ho portato per prima l'immagine zia Federica. Zia Federica è arrivata a 103 anni. Ed era, come vedete, una nobile donna. Era bellissima, sempre elegantissima. Lei si alzava tutte le mattine a cunita dalla nuora. Le avevano amputate una gamba, immaginatevi. È arrivata a 103 anni. Faceva poi per mezz'ora le sue preghiere e poi si concedeva ai mezzi di comunicazione. E quindi riceveva tutte le televisioni, capito? Perché era l'oggetto di comunicazione tutti i giorni. E vi ho portato zia Ciccita. Noi diciamo zio e zia a tutti gli anziani, no? Però questa è mia zia davvero. È arrivata a 101 anni e non c'è più. Però ha avuto forse, aveva il compito di accudirci perché mia mamma faceva l'ostetrica. Era sempre fuori casa, quindi noi siamo cresciuti con lei. Meritava di essere fatta vedere. Zio Giovanni, lui è arrivato a 101 anni. 100 anni e mezzo. Però, per dirvi, noi tutti gli anni facciamo una festa per gli anziani, no? A Natale, adesso mi sto preparando, facciamo la settimana prossima e qui diamo la medaglia d'oro a quelli che arrivano a 100 anni. 85 bronzo, 90 argento, 100 oro. Allora lui che ci teneva tantissimo la sua medaglia d'oro non stava molto bene alla fine. Quindi mi ha chiamato e mi ha detto, ascolti, non mi sento molto bene. Siccome dobbiamo fare quella festa, si accelera un attimo, capito? Perché è morto subito dopo, sapete? Ma si era reso conto che forse era meglio accelerare, no? E Zio Giovanni mi ha detto una volta, guarda, se mi portano polenta io mi arrabbio, perché dice che i veneti mangiano polenta. Noi abbiamo mangiato polenta durante quella, solo polenta, sempre polenta che non ne posso più vedere. Zio Paolino Scatto, lui è nato a Gairo, ma poi si è trasferito ad Arsena da giovane, è arrivato a 105 anni. È diventato un divo televisivo anche lui, sapete? Cioè aveva fatto proprio mezz'ora di trasmissione di Sereno Variabile. Era lui perché volevano una coppia anziana. Ecco, la moglie era lì a fianco, lei è arrivata a 97-98 anni. E allora mi ricordo che quando le aveva chiesto, bevi l'acqua si chiama, no? Le aveva chiesto, signor Scatto, lei ricorda qual è stato il giorno più bello della sua vita? Ha detto, guardi, se mi chiede qual è stato il giorno più bello, non me lo ricordo. Se mi chiede qual è stato il giorno più brutto è quando ho sposato la signora qui a fianco e diceva, tu dica, allora ecco, questa è la cosa di Zio Paolino, no? 105 anni. Ficurati che lui è diventato il testimonial per la regione sarda della longevità in Sardegna. Quando aveva 101 anni è finito sulle pagine di tutti quanti i giornali del mondo, perché avevano acquistato una pagina sul Guardian, sul New York Times, no? Dove c'era Basilica di Sacargia, 700 anni, a Olivastro di Luras, 3.000 anni, Paolino, 101, ecco, per fare la foto aveva scavalcato una recinzione quel giorno, capito, assieme a me in campagna, capito? Zio Paolino era eccezionale. Zio Edoardo, dai, così vi racconto due aneddoti dei miei centenari, capito? Perché forse ho un record, nella mia vita di medico di base ad Arsana ho seguito 23, ho seguito, non curato, che non avevano bisogno di me, 23 ultracentenari. Allora, Zio Edoardo è arrivato a 101 anni, raccontavo prima che lui, sai, aveva avuto 10 figli, mi sembra, in gran parte da latitante, però rientrava la notte, evidentemente, ogni tanto, capito? E aveva fatto 10 figli, con questa moglie bellissima, che adorava proprio, no? La moglie è morta quando lui aveva 95 anni, per due anni è rimasto casto, a 97 ha detto, forse è il caso di risposarci, che era solo. Allora, qual è il posto migliore per trovare moglie? Il mio ambulatorio. Quindi lui scendeva tutte le mattine in ambulatorio. Se c'erano giovani, se ne andava. Se c'erano le signore, intorno ai 70, si tratteneva. Perché cominciava a chiacchierare, non si sa mai, capito? Quella era la tattica di Zio Edoardo. Un aneddoto che ho raccontato tante volte, ormai è grazioso. Quando abbiamo convocato i centenari, allora erano 5 ad Arsana, compresa Zio Raffaela, per fare sadundimento alla festa della tosatura, erano arrivate la televisione, contemporaneamente, la televisione francese e la televisione giapponese. Ora, i giapponesi, come sono i giapponesi? Piccolini, basottini. La televisione francese aveva mandato la telecamera a una ragazzona di 1,80 m, di 20 anni, con l'ombelico in fuori. Zio Edoardo lo intervistava alla televisione giapponese, ma guardava la telecamera francese. Non c'era verso di convincerlo del corso. Allora mi hanno detto, scusi, dovrebbe andare per cortesia a dire a Zio Edoardo di guardare. Io ho detto, guarda, io vado, ma non assicuro il risultato. Allora sono andato e ho detto, Zio Edoardo, bisognerebbe guardare. Ma no, no, se cosa sono scemo, è molto meglio quella, non te ne paragone. Ha fatto epoca questa cosa e la televisione giapponese lo ha intervistato di lato, perché lui non si è girato assolutamente. Zio Graziano, vi dicevo l'importanza dell'alimentazione, è obiettivamente importante. Per alcuni gruppi di ricerca arrivare a 100 anni dipende da quello che mangi. Non è così, secondo me, però sicuramente è importante. C'è ad esempio un gruppo di ricerca sudcoreano che dice che mangiare formaggi fermentati, come quelli che noi mangiamo su Casa Cedo, no? Lo yogurt, quello a seconda delle zone, è importantissimo. A Zio Graziano, che è arrivato a 102 anni, avevano chiesto, lei signor Sirudino è arrivato a 102 anni perché ha sempre seguito la dieta mediterranea e lui ha detto, cosa vuol dire? Vuol dire che ha mangiato sempre le verdure? Mai, ha detto, la verdura fa male. Io ho mangiato l'erba di 100 pecore perché ho mangiato le pecore e in effetti lui ha soltanto mangiato carne, quindi è tutto quanto da ristabilire questa cosa dell'alimentazione, sapete? Zio Ciccito, ve l'ho portato perché, non c'è più, detiene ancora il record, lui è arrivato vicino ai 107 anni, quindi lui è ancora il nonnino della nostra zona blu, eh? 107 anni, parlate benissimo, come vedete, lui aveva 106, e l'ambiente, come vi porto due immagini di ambiente, dai, così conoscete in parte Genargento Arzanese, queste sono le cascate di Pirincanis, è uno dei posti più selvaggi del mondo, sono le uniche cascate del Genargento, tutte le persone che avete visto finora i maschi stavano lì attorno, quindi immaginatevi la fatica che bisognava fare tutti i giorni, anche soltanto per lavorare, bisognava salire e scendere, c'è una corrente di pensiero, che è quella che si rifà poi all'isola greca, di cui vi parlavo, di Karios, che dice che si vive, si arriva a 100 anni perché si va su e giù, perché per vivere si è costretti a fare molto movimento tutti i giorni, e quello è vero, non conviene fare ciclette, conviene sempre, consiglio da medico, uscire di casa e camminare, il nostro ambiente per fortuna ancora è incontaminato, stare a pedalare dentro una stanza chiusa è un'idiozia, e questo è quello che diventa Pirincanis poi, quindi se un giorno, siccome io faccio il medico, ma poi soprattutto faccio la guida turistica, il giorno che venite ad Arsana vi accompagno sul Genargento a vedere queste meraviglie. Vi faccio vedere alcuni dei monumenti naturali più belli del Genargento, questo è uno dei tassi di Tedderì, allora questo è quello giovane perché ha soltanto 1500 anni, grossomodo. Questi sono quelli antichi, questi hanno più di 2000 anni, allora i tassi di Tedderì sono i tassi più longevi del mondo, immaginatevi che quando Luca Goldoni, che è diventato cittadino onorario alzanese, che veniva sempre ad Arsana, cominciava ad avere i suoi anni anche lui, la prima volta che l'ho accompagnato lì sul Genargento e gli ho spiegato che questi alberi avevano 2000 anni, ha scritto sul Corriere della Sera, quando le comette, la cometta puntava su Betlemme, già frusciavano i tassi di Tedderì, è un'immagine bellissima che apparsa in prima pagina sul Corriere della Sera e questo è il Genargento visto da lontano, vi fa capire quanto è bello ancora il nostro ambiente, quanto è incontaminato e dobbiamo fare di tutto per fare in modo che rimanga così incontaminato. Sono diventati famosi i nostri vecchietti, il zio Luigino è arrivato a 102 anni, morto proprio qualche mese fa, quel signore che vedete, uno sono io ma si capisce, quello che vedete a fianco sapete chi è? Quello è il mitico dottor Oz, Oz fa una trasmissione in America che ha 450 milioni di telespettatori, è un cardiologo e si vede ancora, è famosissimo, allora Oz è voluto venire ad Arsana per conoscere il zio Luigino che a 102 anni ha ancora fatto braccio di ferro con Oz, capito? e questo vi dice quanto siamo diventati importanti. Zia ci cita, lei è viva ancora e in questo momento ha 106 anni e mezzo, sono andato a trovarla settimana fa per fare il vaccino dell'influenza e stava facendo il chiacchierino, cioè che è il ricamo più difficile mi hanno spiegato, lei ancora continua a fare senza occhiali e continua a fare il suo chiacchierino, aveva 106 anni e mezzo e poi vi faccio vedere, dai, vi faccio vedere Zia Raffaella, su di lei si potrebbero scrivere dei libri e questa immagine di Zia Raffaella è fatta quando lei aveva 109 anni, lei è arrivata vicino ai 110, è stata in quel periodo anche la nonnina d'Italia, ma per dirvi questa donna e questo vi spiega cosa doveva essere allora la vita, lei si era fidanzata con Zia Angiolino Stocchino quando aveva 17 anni e Zia Angiolino stava nell'ovile più lontano da Arsana, bisognava attraversare tutto il genergento per arrivarci e lei una volta alla settimana partiva all'imbrunire da Arsana col cavallo dove aveva messo su bistucco perché doveva attraversare il genergento e ad essere all'alba nell'ultimo ovile arsanese dove lo aspettava il marito e c'è una particolarità che vi voglio rivelare, guardatela, è una rarissima immagine, qui c'è lei col marito, Zia Angiolino Stocchino e quando Luca Goldoni aveva chiesto a Zia Raffaele a notizia della famiglia lei aveva detto mio marito purtroppo è morto a giovane, e quanti eravano? 101, e allora anche questo è finito sul Corriere della Sera, in due hanno fatto 210 anni e sono stati forse, che stiamo cercando ancora questo Guinness, la coppia più longeva del mondo, non hanno avuto figli ma si volevano un bene matto, Zia Raffaele per intenderci che io si fa per dire ero suo medico, si fa per dire, perché quando mi chiamava era per sapere come stavo io, perché lei stava benissimo, non aveva bisogno di medico, semplicemente una mattina non si è svegliata e questo ci dice perché, forse e come, se arriva 100 anni ad Arsana loro derivano tutti quanti come famiglia da quel famoso villaggio nuragico del Genargento, e in quel vicinato lì noi misuriamo i centenari a metro quadro, perché ce n'è uno ogni metro quadro proprio, e tutta quanta la sua famiglia ha superato i 100 anni. Questo è l'augurio Arsanese a tutti voi. Grazie.